A Teramo cresce la rabbia tra gli automobilisti che sono stati multati per non aver rinnovato in tempo il pagamento sulle strisce blu. Multe salate di 42 euro che a seguito del cambio di gestione del servizio passato, ricordiamo, dalla Tercop alla Easy Help da mesi, stanno martoriando gli automobilisti che in caso di ritardo non possono pagare più la somma dovuta quando tornano a riprendere la macchina. Una vicenda sulla quale è intervenuto il consigliere di opposizione Ivan Berzilli che ha chiesto all'amministrazione un intervento immediato. La problematica legata ai parcheggi viene da lontano, viene dal fatto che non è stata affrontata con il decisionismo che avrebbe meritato. Ricordiamo che questo piano parcheggi è stato fatto, è stato creato senza una visione strategica di città nel suo complesso. Dovrebbe essere risolta e affrontata soprattutto la problematica dovuta alla mancata possibilità dei cittadini che fanno ritardo recandosi nell'autoveicolo, nell'autoparcheggiata e si trovano il verbale nonostante il tagliando sia scaduto da pochi minuti. Sulla vicenda delle multe è intervenuto anche il sindaco di Terramo, Gianguido d'Alberto, che ha annunciato che il comune sta cercando di trovare una nuova soluzione. Noi abbiamo dato una disposizione di prevedere una tolleranza più ampia rispetto ai pochi minuti, ma in ogni caso stiamo valutando, questo lo prevede ovviamente il contratto di concessione, ma stiamo valutando ovviamente con l'ICELP dove c'è un tavolo permanente, coordinato oggi dall'assessore Filipponi con la polizia locale, proprio per intervenire anche su questo aspetto e cercare appunto di trovare un equilibrio rispetto al mancato pagamento nei termini e appunto la sanzione. Quindi è un tema aperto dopo un primo periodo che possiamo definire così sperimentale di avvio che stiamo già trattando e risolvendo con l'ICELP.